Contro il covid aprite le finestre che l'aula deve essere arieggiata. Contro il freddo chiudetele che dobbiamo risparmiare. Vita dura per il mondo della scuola si profila un anno ricco di contrasti e povero di soluzioni, in cui forse la cosa che spaventa meno è il ritorno alle mascherine. La vera urgenza della scuola resta la carenza di organico. Purtroppo, secondo Fabiola Ortolano della Will Scuola Abruzzo, invece di pensare al personale necessario, si concepiscono figure come il mobility manager, ruolo peraltro non retribuito e che poi finirà per ricadere in capo agli stessi docenti. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, noi non siamo contrari certamente ad adottarle negli ambienti delicati come quelli delle istituzioni scolastiche, però siamo ancora al punto di partenza. Abbiamo delle emergenze che con i soli provvedimenti di mascherina, di apertura delle finestre, non potranno bastare per arginare un eventuale aumento di contagi. L'emergenza con cui dall'inizio dell'anno stiamo maggiormente mettendoci in confronto è quella relativa alla mancanza degli organici, soprattutto al mancato rinnovo, essendo da un punto di vista legislativo terminato il periodo di emergenza, di quelli che erano proprio chiamati gli organici Covid, che andavano di supporto per far sì che la sorveglianza, le misure di sanificazione fossero attivate. Quest'anno la scuola, l'anno scolastico è partito senza questo personale aggiuntivo, creando veramente dei servizi, ma delle difficoltà grandissime. I dirigenti scolastici ci scrivono, ci propongono situazioni veramente di difficile gestione. Abbiamo avuto una prima assegnazione, ma che per noi è assolutamente non sufficiente, di collaboratori scolastici e per l'intero Abruzzo sono soltanto 61 unità, quindi una media di circa 15 collaboratori scolastici a provincia, che non ne possono essere assegnati nemmeno uno per ogni scuola che abbiamo sul nostro territorio. Quindi la questione resta assolutamente aperta e abbiamo chiesto il confronto affinché insieme si possa sensibilizzare il Ministero della pubblica istruzione, perché lì dove potrebbero ripartire i contagi la situazione verrebbe veramente ingestibile. Il problema riguarda sempre le risorse. Nel frattempo il Ministero continua a non investire queste risorse. Di qualche giorno fa, ieri, ci sono state date le linee guida per l'istituzione di una nuova figura all'interno della scuola, quella del Mobility Manager, che è una figura che però anche qui deve essere creata senza costi aggiuntivi nelle scuole e che dovrebbe avere un ruolo comunque assolutamente gestionale e organizzativo, quindi tolto alla didattica per darlo a un sistema organizzativo. Crediamo che questa non sia la linea. Bisogna investire sulla didattica, non soltanto sugli elementi organizzativi.